È evidente che un grande mangia più di un bambino, però molto spesso ci sono dei bambini che mangiano proporzionalmente più di quello che uno si aspetterebbe dalla loro stazza. Un bambino di 10 chili che mangia 2 chili di roba mangia molto di più di un grande di 50 chili che mangia 3 chili di roba perché in relazione al suo peso ha mangiato di più. Ma quando questa relazione è di uguaglianza, cioè un bambino di 10 chili mangia un chilo di roba e il suo fratello grande di 20 chili mangia 2 chili di roba, allora si può dire che c'è proporzione fra quello che mangia l'uno e l'altro. Questa uguaglianza nei rapporti può essere resa tramite la proporzione in forma generale che ho scritto quassù. A sta a B come C sta a D. Se poi per caso B è uguale a C, allora si può scrivere A sta a B come B sta a C. Immaginiamo un gigante che abbia il braccio lungo come tutta l'altezza di un bambino, ma quel bambino è figlio del gigante quindi ha le stesse proporzioni del gigante. Allora nella proporzione continua scritta sotto si potrebbe visualizzare così il braccio del bambino sta all'altezza del bambino come l'altezza del bambino che poi è lunga come il braccio del gigante sta all'altezza del gigante, cioè A sta a B come B sta a C. Facciamo anche un esempio numerico di queste proporzioni. Una proporzione normale potrebbe rappresentarsi così. 15 sta a 5 come 9 sta a 3. D'altra parte questa uguaglianza è vera. 15 diviso 5 fa 3 e anche 9 diviso 3 fa 3, quindi è giusto scrivere questa uguaglianza. Se invece abbiamo una proporzione continua, quando i medi sono uguali, 9 diviso 6 è uguale a 6 diviso 4. Qua ci vuole forse più una calcolatrice perché 9 diviso 6 non dà come risultato un numero intero, però dà 1,5 e anche 6 diviso 4 dà come risultato 1,5, quindi questa uguaglianza è vera. Siamo davanti a proporzioni vere. Devo però dire che le divisioni stanno in dibattito un po' a tutti, per cui verificare la verità di una proporzione tramite le divisioni a volte è seccante. Pertanto è opportuno avere buona conoscenza della proprietà fondamentale delle proporzioni, che praticamente recita così. Il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi e questo si vede per esempio quella che abbiamo appena analizzato. Se facciamo 5 per 9 viene 45, se facciamo 15 per 3 viene di nuovo 45 e quindi questa proporzione in virtù della proprietà fondamentale delle proporzioni è una proporzione vera. Guardiamo anche quella continua. 6 per 6 fa 36, 9 per 4 fa 36. È vera anche questa? Proprio come avevamo stabilito quando avevamo fatto le divisioni. Ecco di nuovo altre proporzioni, una normale e una continua. Verifichiamo. 4 per 5? E 10 per 2? È vera? Oppure quella continua. 8 per 8? 32 per 2? Danno lo stesso risultato? Ebbene sì, si tratta ancora di proporzioni. Infatti 4 per 5 fa 20, così come 10 per 2 e 8 per 8 fa 64, come 32 per 2 fa 64. Insistiamo anche con quest'altra coppia di proporzioni, una normale e una continua. Sono proporzioni o sono uguaglianze messe a caso? Ci conviene fare la divisione o applicare la proprietà fondamentale delle proporzioni? Io dico che ci conviene applicare la proprietà fondamentale delle proporzioni. Proviamo a farlo e vediamo poi se i ragionamenti erano andati a buon fine. Ebbene sì, si tratta di una proporzione. Infatti 4 per 9 fa 36 e anche 12 per 3 fa 36, così come nella continua 4 per 4 fa 16 e anche 16 per 1 fa 16. Sono due proporzioni effettivamente. L'uguaglianza è verificata. Proviamo a farlo e vediamo poi se i ragionamenti erano andati a buon fine. Ebbene sì, 4 per 9 fa 36, prodotto dei medi e 12 per 3 fa ancora 36, prodotto degli estremi. E ancora 4 per 4 fa 16, prodotto dei medi e 16 per 1 fa 16, prodotto degli estremi. Sì, anche queste due sono proporzioni, una ordinaria e una continua. Ma non è che questa proprietà fondamentale mi porta a barare. È proprio vera l'uguaglianza se io faccio la divisione? Proviamo. 12 diviso 4 fa 3, sì, 9 diviso 3 fa 3. L'avevamo fatto. 16 diviso 4 fa 4, sì, 4 diviso 1 fa 4. È vera. Ci vuole anche un pochino di terminologia. In quest'ultimo esempio proviamo a dare un nome ai vari pezzettini. Ci sono il 12 e il 3 della prima proporzione che si trovano agli estremi della proporzione, infatti si chiamano estremi. Il 4 e il 9 della prima proporzione si trovano in mezzo, infatti si chiamano medi nella proporzione continua. Il 16 e l'1 sono gli estremi, il 4 e il 4 sono i medi, anche se si chiamano anche medio proporzionale. Così come il 3 della prima proporzione si chiama quarto proporzionale, mentre l'1 della seconda proporzione, siccome i termini sono poi 3, si chiama terzo proporzionale. Sono tre termini nel senso che il 4 si ripete due volte. Quindi medi sono al centro e gli estremi sono in periferia, naturalmente. Il 4 proporzionale quando sono quattro termini tutti diversi, il 3 proporzionale quando i medi sono uguali. Continuiamo un altro pochino con la terminologia, tanto perché quando si parla e si dice un termine tutti sappiano a che cosa ci stiamo.